125 no limits da giovedì 18 giugno solo su job tv l'anno scolastico ormai è giunto alla fine come d'abitudine gli insegnanti e professori assegnano i famosi e molto odiati compiti delle vacanze ma a porto san giorgio nelle marche un giovane professore ha deciso di assegnare dei compiti un po speciali ballate senza vergogna e sognate la vostra vita non dite parolacce e siate sempre gentili almeno una volta andate a vedere l'alba leggete e sognate il vostro futuro se vi sentite tristi o spaventati non vi preoccupate l'estate come tutte le cose meravigliose mette in subbuglio l'anima provate a scrivere un diario a settembre se vi va lo leggeremo insieme lei cosa ne pensa è da bellissima idea le piace splendida veramente mi piacerebbe conoscerlo questo professore addirittura quindi lei non pensa che lasciare i ragazzi per tre mesi senza fare i compiti sia assolutamente qualcosa di sbagliato se il ragazzo lo desidera per non trovarsi poi a settembre proprio così con le idee vuote può fare qualcosa però neanche caricare questi compiti ragazzi anche per le famiglie diventano e studia fa i compiti e qua è tutto un bisticcio rovina anche le vacanze ai genitori qualcosina magari non sarebbe male però il fatto anche di tenere questo diario non può essere un'idea buona vero in questo diario può esserci qualcosa poi se il ragazzo desidera capisce che non so magari si è debole in una materia ogni tanto vuol dare un'occhiatina è tutto a suo vantaggio ma obbligarli io non lo so guarda con tutti i divertimenti che ci sono in giro in estate come si fa beh un po' di compiti magari farebbero bene però è una cosa anche alternativa per cercare di stimolare i ragazzi quella di fare i compiti dice oppure quella che ha detto questo professore sì questa è una nuova idea sì anche perché i ragazzi comunque devono un attimino rilassarsi e vedere non si imparano tutte le cose a scuola quindi oltre ai compiti fare anche qualcosa di diverso vedere in giro cosa c'è sì sì è una bella idea qualcuno dice vuol dire permettere ai ragazzi di non fare nulla per tre mesi sta anche ai genitori seguirli un attimo perché comunque non è solamente il compito di matematica che insomma si può anche fare da soli però è una bella iniziativa sì perché no anche perché comunque i ragazzi sono stimolati a far qualcosa senza che qualcuno gli dia una dritta non è il solito titolo da spiegare da scrivere eccetera eccetera sarebbe bello se ce ne fossero di più di professori così perché comunque stimola i suoi alunni i suoi studenti a fare qualcosa per loro stessi senza dover seguire le regole del compito delle vacanze perché se non ricordo male dice anche in un passaggio leggete libri ma perché lo volete fare e quindi quella è la cosa bella che devono cercare di tirar fuori secondo me gli insegnanti dai loro studenti forse stimola ancora di più ragazzi rispetto all'obbligo di fare i compiti no? sicuramente anche perché è un libro per esempio letto per scelta è un conto un libro letto per obbligo non ti lascia assolutamente nulla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti